io non ti vedo al momento ma penso che tu stia più di 100 tira un flare giallo lo vedi sono avanti a lui sono due f5 prendi quello lì che ha lanciato il missile vedi quello che ha lanciato il missile quello sta scendendo no quello che sta scendendo sotto il tuo sto scendendo vai gli sono dietro vai 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 siamo intorno mamma mia c'è un video che cazio mamma mia che cazio che c'è nello stile per un'altra città un'altra città un f5 l'incosta sì visto bravo bravo salicuzi un'altra città 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 Un po' di più, un po' di più. Ah, sta facendo una specie di... di testa Eh, ma io sono... E' il budget Vai, sono in quota Buono, c'è tutto Ma questo è solo pasta Aspetta i motori D Sisi 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 Sisi